comunque raga alla fine la valigia con il caffè preso voto la valigia è pronta non devo metterci nulla ce l'ho fatta raga non ci credo che lo giuro pronta per essere chiusa e non esploderà mi sa questa volta sono stata brava amici mia la nostra perlita ancora le prese con le sue valigie nel prossimo video la vedremo finalmente in aeroporto nel frattempo ci vediamo greta rossetti che invece è più smart si prende la macchina dopo di lei a vita olivieri sempre biondissima si fa i suoi balletti qui oggi maglietta righe sempre un po maschiaccio quando è off duty e poi si trasforma in ragazza glamour alla sera spesso con i piedi e antonella fiordelisi invece oggi si fa fare i capelli eccola qua anche lei ma schiaccio ma in senso diverso si è aggiunta la cravatta bene vi aspetto il prossimo video un grande bacio grazie a tutti